Sorridente come sempre e come sempre prodigo di aneddoti sull'epoca più verace del basket pesarese. Paolo Gurini si presentava così a dicembre 2020 nel salotto di Rossini TV di Insieme a Canestro, incalzato dalle domande di Marco Cadeddu e dalla memoria storica di Franco Bertini, giornalista, scrittore, nonché ex compagno di squadra. Ieri Paolo Gurini se ne è andato all'età di 73 anni e con lui se ne va una delle fette di storia più importanti del basket pesarese. Lui pesarese doc per otto anni con la maglia della VL sulle spalle fra anni 60 e 70. Se ne è andato lottando contro un tumore diagnosticato glielo scorso anno. A pochi mesi dalla morte di Pero Scansi se ne va un altro pezzo di una VL memorabile, otto anni in bianco-rosso marcati da caratteristiche che ne fecero uno dei migliori contropiedisti italiani. Una carriera segnata anche dalle maglie di Rimini, Loreto e dall'infortunio di Cagliari. Un amore per il basket trasmesso poi anche ai figli Giovanni e Giacomo. La VL ieri ha espresso dolore e cordoglio per la scomparsa, una VL che Gurini declinò in ogni sua variante. Max Mobili, Butangase e Scavolini non avendo dubbi su quale fra i tanti ricordi, occupava un posto più speciale di altri. Io lo più bello? Butangase, è il primo amore, non si dimentica mai. Ma Butangase è una bella squadra, cojone ragazzi, non scherziamo. Io ho fatto un esordio veramente bellissimo, mi sono divertito e lo porto veramente nel cuore. E i compagni con cui legasti di più in quegli anni? Eravamo molto rispettosi verso gli altri. Noi eravamo io i cenciarini, i pulcini, gli altri erano tutti dei santoni, dei grandi giocatori. Noi li guardavamo con grande affetto. Ma quanta gente vi veniva a vedere al vecchio Palace? Ma più che gente erano parenti. Era quasi tutta pesarese quegli anni. Ma era sempre pieno, devi tenere conto. Il palazzo era 4.000, 425 cittadini. Sì, sì. Ma poi c'era gente che quando c'erano le partite con ligni su Corsimeta, mettevano le carte da 20.000 a 20.000 per entrare, che non c'erano più pieni. No, 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 quegli anni il problema del pubblico non c'è mai stato a Pesaro.